pronto pronto buonasera signora sono a taru moriboshi mi sentite a taru moriboshi sta chiamando da una radio mi sentite allora io vi devo fare una canzone voi dovete rispondere oa oa che poi la dobbiamo mandare in onda e tutti devono fare l'applauso va bene sarà un amore strano questo qua che brucia fuori e dentro la città io ti guardo sorridente sono troppe cose lì pronto ciao sono a taru mi senti a taru moriboshi a taru si a taru dico sto chiamato da una radio allora io vi dico una frase e voi dovete rispondere sarà un amore strano questo qua che brucia fuori e dentro la città io ti guardo sorritente e mi aspetto che mostac